Greta Thunberg in Italia dopo tre anni e manifestava qui a Milano per l'ambiente e anche contro il genocidio. Stavolta non è andata dal Papa, quindi si vede che è un po' in fase declinante l'attivista. Tant'è vero che non sa più che pesi prendere, ha messo insieme il clima e le bombe. E d'altronde questi ecologisti dicono che bisogna fermare la guerra perché la guerra inquina, le bombe inquinano. È senza dubbio vero, però è anche un effetto collaterale, direi che soprattutto le bombe ammazzano le persone, poi secondariamente inquinano. Però ti dà l'idea di come siano un po' monocentrati gli attivisti ambientalisti, che ci tengono più che la guerra si fermi perché inquina, anziché perché ammazza le persone. Detto questo, io credo che, mi auguro che passeranno altri tre anni prima di rivedere Tretatumba in Italia, perché mi sembra che abbia ormai veramente poco da dire.